Chi sei? Nessuno. Mi hanno addestrato a un'unica cosa. Ma non ho niente per cui combattere. Niente ci fermerà. Io finirò... ciò che ha iniziato. Girano storie su ciò che è successo. È vero. Tutto vero. Il lato oscuro. Il Jedi. Sono reali. La forza... ti sta chiamando. Lasciami entrare. Il Jedi. Il Jedi. Diopattima. perché. Siia.